Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi del mouse RAT6 di MadCatz, un mouse da gaming molto particolare, disponibile su Amazon ad un costo di 90€ circa, questo modello naturalmente. Questa è la sesta versione, ce ne sono anche altre più economiche, quindi diciamo questa è la più, tra virgolette, costosa, però diciamo è la più esigente, rivolta a coloro che giocano molto spesso agli FPS sul PC. Vediamo che cosa ha di particolare questo mouse. Prima di tutto nella confezione trovate gli adesivi di MadCatz, magari se volete abbellire il vostro computer, la scrivania, non lo so. Un manuale che mostra in varie lingue tutti i pulsanti del mouse e a che cosa servono e, diciamo, illustra due caratteristiche del mouse che adesso vi mostrerò. Una è questa e l'altra è questa. Il mouse ha il filo, come potete vedere, quindi non è wireless. Se acquistate il mouse tenete presente, appunto, che non è wireless. Il mouse, come molti altri professionali da gaming presenti sul mercato, ha i pesetti. Ora, a differenza dei classici mouse in cui i pesetti vanno sotto, ad esempio, qui li ha praticamente, sì, sotto ma dietro. E sono già inseriti, adesso non so se li vedete, sto cercando di avvicinare la camera, così ve li mostro. E possono essere, ecco, da qui si vedono, possono essere tolti girando questa manopola. Ma attenzione, io quando ho aperto il mouse ho girato questa manopola perché pensavo di fare qualche altra cosa e invece praticamente è saltato molla, pesi, di tutto è uscito da questo mouse. Quindi fate molta attenzione. Girate con cautela e rimuovete i pesetti che non vi servono. Ora, questo mouse ha una cosa molto particolare. A parte questa, praticamente, lo scroller, diciamo, laterale. Oltre ad avere lo scroller classico, ha anche quello laterale, destra e sinistra. Magari, se vi serve, lo avete a disposizione. Ha il pulsantino per cambiare dpi. Se non vado errato, arriva fino a 12.000, forse qualcosa in più. Avete diverse configurazioni. Provenendo da un mouse Logitech con dpi elevati, sono andato alla ricerca di un mouse con altrettanti dpi e ho trovato questo che è veramente comodo. L'ho utilizzato un po' e vi posso dire che è comodo. Tornando al mouse, qui abbiamo lo scroller, qui abbiamo il tastino per cambiare dpi, qui abbiamo il tastino dei profili. Collegando il mouse al computer e installando e avviando il software potete configurare il mouse per ogni singolo tasto e salvare i vari profili e cambiate profilo con la pressione di questo tasto. Infatti, cambiando profilo, come potete vedere, cambia anche colore. Quindi passa dal blu al rosso e così via dicendo. Diciamo che il tasto non è molto comodo da premere, ma del resto se avete selezionato il profilo interessato, insomma, non lo premerete nuovamente. Di lato invece abbiamo, oltre il logo che si illumina, cambia colore come potete vedere, abbiamo un pulsante che gestisce la precisione negli fps, la mira. Quindi grazie a questo pulsante potete insomma mirare meglio. E poi ecco, abbiamo la caratteristica principale di questo mouse, ossia la possibilità di regolarlo. In che senso? Ora, come potete vedere, la mia mano non è molto piccola e quindi diciamo questa impugnatura va bene, ma se ho la mano piccola o se non mi trovo bene, posso gestire la parte posteriore. Tenendo premuto questo pulsantino qui, non so se lo vedete, questo qui praticamente, e allungandomi in questo modo, come potete vedere, posso praticamente accorciare o allungare la parte posteriore. Infatti in questo modo qua, diciamo, potete regolarvi come preferite. Però tenete presente una cosa, se allungate questa parte posteriore, significa che avete le mani lunghe, le mani grandi, e quindi se avete le mani corte, non riuscite ad arrivare bene ai tasti. Inoltre poi il mignolo qui poggia nel vuoto. Quindi questo tasto, diciamo questo pulsante che sta qui dietro, va premuto solo per regolare il mouse in base alle vostre mani. Ripeto, il prezzo di questo mouse è di circa 85-90 euro attualmente, poi magari tra qualche tempo scende, ma ci sono anche altri mouse prodotti da MedCats della serie RAT ad un prezzo inferiore, con caratteristiche naturalmente inferiori, tipo livelli di DPI più bassi. Questo, diciamo, è il top per quanto riguarda il RAT di MedCats. Quindi, se volete acquistarlo, lo trovate su Amazon tramite il link che vi allego nella descrizione del video.